buongiorno occhio pecoro sempre pecorizzato guardate quanto è pecorizzato mamma mia l'unico modo per depecorizzare l'occhio è lui lo schiso non so se capita anche a voi ma io quando mi faccio mi taglio le unghie dei piedi sembra che volo mi alleggerisco tantissimo è solo una cosa mia mentale o anche la vostra cioè mi sento proprio leggero come una libellula ma quanto è bello a quest'ora è troppo presto svegliarlo però già che li vedo sto bene qui mi dite tutti come fai la mattina e se così e se così ragazzi perché c'ho il fuoco dentro bisogna essere carichi bisogna affrontare la giornata al massimo anche se non è una giornata proprio però noi bisogna metterci del nostro è questo questo che vi fa fa il salto che vi fa fa la che vi dà la forza e l'energia per affrontare al massimo anche nei momenti meno belli perché brutti non ce so meno belli raga usiamo sempre belle parole forza buona giornata questo ascolta me l'era da è uno si ma questo me l'era da questo me l'era da questo me l'era da un giorno un giorno grazie ragazzi 100mila su youtube 100mila su youtube arriva sta targa pensate se a nonno fa un signo arriva la targa di youtuber pazzesco quindi fate swipe andatevi a iscrivervi è uscito il video pranzo con carletti adesso mangio qualcosa e il mio tesoro sarà mio presto piccola biglardino a casa dai ciao ciao guardate biglardino mamma mia che ricordi il biglardino quando ci giocavo io in terzo mamma mia eh compleanno compleanno tanti auguri vale auguri vale quầ vari mariani che c'è stato sta pieno sta pieno sta pieno auguri vale è vero compleanno tanti aguri vale auguri vale domenze Prettel sta pieno sta pieno auguri vale è vero comunque io vorrei premiarvi perché sono quasi a 500 mila follower e ci vuole un bello scherzetto stavolta credo di farlo a nonna maria vediamo se qualcuno indovina non sono ave maria piena di grappa il signore in cantina gli umbriagoli prima ma non è vero ma non c'è nulla a te lo sanno va bene va bene oh no oh no oh no oh no oh no oh no o no? tangentopoli guarda come in saccoccia guarda come in saccoccia guarda come in saccoccia guarda come ride in saccocci le tangenti e preghi ma scusa ma cosa fa? guarda come ride ma sta contento il coccodrillo guardalo o no? c'è il rosario adesso ore 19 e 30 vi aspettiamo con nonno faustino l'intervista di roberto ferrari quindi 19 e 30 in diretta solo su instagram voglio tanti tanti coccodrilli ma sto a cambiare canzone ma per canzone non smettala ma perché? ma esatto no 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 ma lì non è la gioia era questo ho cambiato anche il hit sto a suonare c'è il saggio ma questo è suonare che stai suonare ma che stai suonare mi hai da dire che stai suonare sto a suonare ma va a scopare no ma perché tutto è matto c'è vai via vai via dove è? voglio tagliare il prosciutto là Raus! Voglio tagliare il prosciutto! Raus! Fammi tagliare! Non provare venite qui! Il prosciutto non è toccato! Che fa tutte le scalette! Dai fammelo tagliare! No, no, no! A me che fa il prosciutto? Vattene! Va via! Mannaggia il crocistrana! Fammelo tagliare! Ma per tagliare! Pare uno che ci fa la zappa! Oh, per tagliare il prosciutto! No, è un sabone! Fammelo tagliare! Va via, va via! Ma non senti la tagliare! Solo avevo uno così vicino! Ma io voglio tagliare il prosciuttino! Ma tu non hai da tagliare niente! E cosa fa? Niente! Qua non hai da mangiare bene! Ecco qua il nostro merchandising! Eccolo qua il nostro merchandising! Eccolo qua il nostro merchandising! Fate swipe up! Per 24 ore! Chiunque acquista un articolo del nostro merchandising! Sarà sorteggiato! E sarà salutato! In una storia! Anzi! Ne saluto 4! In una storia insieme al nonno! Qual è che ti piace più del merchandising che tu fa swipe up? Com'è? Del merchandising che ti piace di più? Non ho capito un cazzo! Del merchandising qual è che ti piace di più? Ma che cavolo mi stai gi- E a voi quali piace di più? Quali articolo piace? Acquistato dal merchandising? Ma io il Mercedes se salivo! Com'è? Allora era anche bello! E ora che c'è? E adesso ho un parco di coglioni! Ma... Arzucchi! Oh! Che arzucchi! Oh! Oh no! Carzucchi! Oh! Oh no! Ormai arzucchi! Oh no! C'ho fatto e fatto! C'ho fatto? Guarda qui! Parca hai fatto le bistecche! Così si taglia! Come le va a tagliare? Ma fino le va a tagliare! Come? Così? Hai fatto i tocchi? Ma non è buone? Ma cammina vai! Buone! Questa è nuova ecco! Questa è nuova! Questa ma è nuova! Eh! Questa è proprio l'invenzione della... Proprio è della primavera! Guarda che lavoro! Eh! Inzuppe! Ma non hai capito che mi puoi fare mie? Tu inzuppe! Guarda che lavoro! Guarda che lavoro! Più giù! Più giù! Perma del Dio! Oh! No! Ah! Ma che fè! Guarda quanti ce n'è dietro! Ti tirano i sassi da lì eh! Eccolo! Il babbo drillo! Guarda quanto sta bene al mondo! Eh! Quanto è bello! Sapevo tutto che tornavo a Natale! Oh oh oh! I codrilli vi auguro la buonanotte! Ci vediamo domani! E... Grazie ancora! Siete unici! Oggi ho cercato di rispondere a più messaggi possibili! Mi sono messo giù! Non è facile però... Ci provo sempre! Ci provo! E adesso vi posto... Un messaggio... L'avevo messo prima ma... Volevo parlare un pochino prima! Un messaggio dove... C'è il ringraziamento... Su una collaborazione! Ma il ringraziamento lo giro a voi! Perché quando scende in campo il capitano... Sempre perché ve lo meritate! E... A breve vi darò delle notizie... Starò ancora di più con voi! Diciamo così! E chiaramente con il nonno e con tutta la mia splendida famiglia! Ma siete voi anche la mia famiglia! Scende in campo tutta la squadra dei coccodrilli! Noi ragazzi siamo... Veramente veramente una squadra fortissima! Fortissima! Eh... Tanto lavoro! Tanto impegno! Però i risultati vengono sempre! Notte! Oh no! Dormimo! Sì! Siamo arrivati a 500k! Come salire a 500k? 500k! Quello! 500k! 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 Sì! 500k! Cazzi! 500k! E allora non ti dico io! Vaffanculo! No! 500k! Sì! 500k! Sì! 500k! Cazzi! 500k! 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 Sì! Cazzo! 500k! E allora!